Io non ci credo. Finalmente ho scoperto cosa dovevo farci con quel sedicuatre. Sei un mago, un intrattenetore. Sei un artista. Il compito dell'artista è quello di trovare le chiavi per aprire le prigioni in cui sono rinchiusi i cuori delle persone. Tu sei mai stato felice qualche volta? Mi sta rubando il tavolino!